Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i telespettatori di Primo Canale. Allora, la cosa che balza subito agli occhi è che il primo 25 aprile che si festeggia con un governo di centrodestra o di destra, se si preferisce, e già questo fa la differenza rispetto a tutto il passato, Luigi. Guarda, io francamente ritengo di no, perché questo tipo di polemiche, magari non così forte, non così virulente, ma ci sono stati anche in passato. Ogni volta che si è trattato di festeggiare il 25 aprile, che ci possa il governo centrodestra o che ci possa il governo centrosinistra, si è sempre trovato il modo di polemizzare su questa festa. Io devo dire che la trovo una cosa abbastanza ridicola, passami il termine, perché francamente a distanza di tanti anni, a capigliarsi sul valore di una festività che peraltro è una festività che riguarda tutti quanti, riguarda tutto il paese, siamo un paese libero grazie a quello che è avvenuto il 25 aprile del 45. Quindi sono quelle cose che francamente io trovo stucchevoli e così come trovo stucchevoli il fatto che si continui a dire che Giorgio Meloni, piuttosto che altri esponenti del centrodestra o della destra al centro abbiano bisogno dei cosiddetti esami del sangue. Peraltro, però devo anche aggiungere per onestà intellettuale che i ministri, soprattutto i ministri del governo di Giorgio Meloni, ma anche alcuni autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia e non soltanto facciano veramente anche di tutto a parole per in qualche modo alimentare questo tipo di polemica. Ma non credo che il paese nel suo complesso parla dietro a queste cose francamente. Senti, ma non è stato ormai inflazionato, e mi dispiace, cioè la parola fascista sia come termine che come aggettivo, perché viene spesso usato per un mucchio di cose. Non abbiamo esagerato, abusato di questa parola. Ma io ne sono assolutamente convinto, nel senso che nel tempo proprio l'abuso di questo termine in qualche modo ha fatto perdere il valore originale di questa parola, che era una parola che individuava un periodo storico ben preciso e del quale fortunatamente ci siamo disfatti, e anche un modo di essere, nel senso che quando qualcuno ha cercato di imporre la propria visione del mondo in modo anche violento, perché è successo anche questo, lo abbiamo definito fascista. Oggi fascista invece è tutto quanto sembra quasi come quando si grida al lupo al lupo, poi quando arriva al lupo nessuno ci crede, eppure il lupo c'è sul serio. Devo dire che è una parola molto inflazionata e che in qualche modo rischia di perdere il suo valore originale. Domanda banale, forse retorica, ma in effetti l'italiano non credo che abbia paura del fascismo, cioè abbiamo paura di una cosa che non c'è, è morta e sepolta, o no? Allora, io sono d'accordo con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che vada compiuto tutti gli anni un esercizio di ricordo, perché comunque ricordare il 25 aprile e tutto ciò che ha riguardato il periodo del ventennio fascista è una cosa che non fa mai male, nel senso che qui ad Imperia per esempio sono comparsi dei manifesti che in qualche modo possono essere persino appunto banali. No, libertà è come l'aria. Quando però tu ti ritrovi senza l'aria, che fatichi a respirare, ti accorgi che cosa vuol dire. L'aria è una cosa che tutti diamo per scontata, perché senza quella non possiamo stare al mondo. Ecco, diciamo che la libertà è la stessa cosa. Quindi, diciamo, averne cura come di un bene prezioso, io sono assolutamente d'accordo. Dopodiché, secondo me, sarebbe giusto consegnare questo periodo. Quindi va benissimo ogni anno ricordare quei 13 eventi. Va benissimo soprattutto ricordare il valore e l'eroismo di tante persone che hanno consentito di restituire la libertà al popolo italiano e all'Italia. Dopodiché però questo periodo va consegnato ai libri di storia. La politica dovrebbe avere argomenti ben più seri sui quali accapigliarsi, non certamente se il centro-destra fa qualcosa di più o di meno o se il centro-sinistra fa qualcosa di più o di meno. Francamente, ripeto, è una cosa che soprattutto per quanto riguarda i giovani che sono nel nostro futuro, credo che nessuno di loro possa in qualche modo condividere queste polemiche, le polemiche di questi giovani. Sono una cosa risibile proprio. Certo. Sono passati 78 anni dalla fine della guerra. Riusciremo mai 78 anni? Poi non solo la guerra nostra, la guerra che ha coinvolto l'Europa, ma noi siamo ancora così. Ma riusciremo un giorno, Luigi, un giorno. Non penso sarà l'anno prossimo a festeggiarlo. Non dico senza polemiche che ci saranno sempre, ma festeggiarlo come, per esempio, gli americani festeggiano il 4 luglio. Cioè, riusciremo una volta con le bandierine italiane a sventolarle tutti insieme? Allora, io sono ottimista per natura, quindi dico sì, prima o poi ce la faremo. Dopodiché però è anche necessario, e lo dico assumendomi la responsabilità di quello che sto per dire, che personaggi come Ignazio e Arussa mettano la terza a posto, diciamo così. Perché il Presidente del Senato. Ma perché diavolo deve scegliere proprio il 25 aprile per andare a commemorare Jan Palak? Siamo stati tutti quanti Jan Palak nel momento in cui si vede fuoco contro il regime comunista. Ma se tu lo fai il 25 aprile, cioè prima vai all'altare della patria a deporre la corona insieme al Presidente della Repubblica e insieme al Primo Ministro. E poi vai, mi pare, in Polonia a commemorare questa figura contro il comunismo. Vuol dire che tu stai equiparando il comunismo che peraltro noi non abbiamo mai conosciuto. Cioè, quando io sento le persone, certe persone di centro-destra e anche Ignazio e Arussa dire mai che dobbiamo condannare il comunismo. Sì, benissimo, condanniamo anche il comunismo, ma noi non abbiamo mai conosciuto quel tipo di comunismo là, per fortuna. Perché persino un comunista italiano come Palmino Togliatti quel comunismo là non lo volle. Quindi voglio dire, ma allo stesso tempo dobbiamo riconoscere, credo che sia un esercizio di onestà intellettuale che invece purtroppo noi abbiamo dovuto fare i conti con vent'anni di fascismo, con vent'anni di regime. Quel regime siamo riusciti a togliercelo dalle scatole, scusa il termine, a costo di enormi sacrifici anche di vita umane. E beh, quello però dobbiamo ricordarlo. Quindi voglio dire, anche l'esercizio di cercare di mettere sullo stesso piano due cose, una delle quali peraltro noi abbiamo avuto la fortuna di non patirla. Beh, non mi pare una bella cosa, francamente. E che lo faccia il Presidente del Senato sulla seconda carica dello Stato, francamente mi pare inopportuno.